Ci troviamo nell'area di protezione civile del tramarino, che cosa avete fatto Assessore questa mattina? Nel dettaglio poi ce lo spiegherà ovviamente il nostro responsabile, però è un'esercitazione di protezione civile che ha lo scopo ovviamente di testare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività, ovviamente tutto il sistema della protezione civile comunale qualora ovviamente si manifesta una situazione di rischio e di necessità di intervenire. Quindi ogni tanto sono esercitazioni che vengano fatte e hanno proprio questo obiettivo. L'organizzazione è importante perché ci sono un sacco di volontari, circa una settantina di volontari in azione coordinati dal nostro sistema della protezione civile e quindi ora tra poco a breve dovrebbero comunque terminare. Che cosa avete fatto questa mattina? In particolare avete testato qualcosa, un'emergenza particolare? Sì, sempre testiamo degli scenari che siano il più possibile reali e ahimè probabili. Stamani abbiamo testato gli scenari idrogeologici, vale a dire abbiamo simulato la necessità di effettuare dei pompaggi, abbiamo eseguito poi delle sorveglianze del territorio, poiché noi abbiamo un piano di sorveglianza del reticolo idrogeologico attraverso i volontari e oggi qui stiamo testando come si opera in ambiente covid pur avendo un'attività di protezione civile. Quindi tutte le nostre attività qui sono rivolte a inserire le normali attività di protezione civile in un'attività di emergenza sanitaria.